Nessuna aggressione. Rick Bibay, l'ex giocatore inglese di rugby, quarantenne, trovato lo scorso sabato mattina privo di vita in una camera dell'hotel continentale a Firenze, è morto per uno stato psicofisico generale fortemente compromesso. Il conto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita a martedì fino a tarda sera all'Istituto di Medicina Legale di Firenze, per confermare l'ipotesi del malore che potrebbe essere stato provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, come emerso dalle indagini della squadra mobile fiorentina. Si dovrà attendere l'esito degli esami tossicologici. In pratica il cuore della quarantenne avrebbe ceduto di schianto negli stessi momenti in cui la sua compagna, 44enne, si trascinava fuori dalla camera mezzanuda e insanguinata, chiedendo aiuto per una brutta ferita al bacino subita durante quella che secondo le indagini è stata una violenza sessuale. La donna è ancora ricoverata all'ospedale di Careggi, dove è stata sottoposta a una seconda operazione dopo quella d'urgenza subita sabato. Stavolta si è trattato di un intervento di chirurgia maxillofacciale per ridurre le fratture provocate, secondo gli inquirenti, dal compagno che, fuori di sé, l'avrebbe pestata in faccia. La 44enne sarà ascoltata nei prossimi giorni dal pubblico ministero, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati.